Benvenuti nel nuovo mondo della Management Intelligence. Tutto quello che avete immaginato e cercato è qui. Benvenuti nel nuovo mondo di Borda. Oggi esiste un ambiente molto diverso da tutti gli altri. Un ambiente estremamente evoluto, ma semplice e intuitivo. Dove finalmente puoi avere tutti i vantaggi della Business Intelligence e tutti i vantaggi del Corporate Performance Management in un unico software. Il segreto si chiama Toolkit. Un approccio rivoluzionario che ti mette a disposizione applicazioni interamente personalizzate. Dalle analisi ai report, dai dashboard alle scorecard, dal planning alla simulazione. Non solo puoi utilizzarle, ma anche costruirle e modificarle in modo semplice, rapido e sicuro. Entra nel mondo Borda. Scopri come è facile muoversi nell'ambiente all-in-one, dove tutto funziona in modo ideale e dove la tecnologia più avanzata ti offre le soluzioni che cerchi. Prendi la decisione giusta con Borda. Prendi la decisione giusta con Borda.